Ciao ciao a tutti e ragazzi mi sono arrivate tantissime cose bellissime da Zaffo e non vedo proprio l'ora di farvele vedere Allora penso che molti di voi conosciate già Zaffo perché è un sito molto conosciuto E devo dire che i prodotti che mi hanno mandato secondo me sono fantastici, sono troppo belli E come sempre ricordatevi che qui sotto nell'info box lascerò il link dei prodotti che ho scelto e lascerò anche dei link per avere degli sconti Allora questo è il primo completo ed è fantastico, questo è il top ed è pieno di fiori, è troppo bello Poi invece ci stanno anche gli shorts sempre con i fiori e in pratica sono uguali con questi fiori, è molto estivo Ed è veramente molto molto bello, anche particolare E poi mi piace troppo il modello con le spalle scoperte e il top corto Veramente carinissimo e anche molto estivo Allora questo è il secondo completo Veramente fantastico Questo è il top ed è a maniche lunghe col collo alto, veramente troppo bello Questo è un poco meno estivo ma è sempre leggero Poi ci stanno gli shorts con diciamo così questo elastico in fondo molto particolare E mi piace molto lo stile anche un po' anni 60 e il materiale è ottimo Allora poi c'è questo completo con questo top bellissimo Solo che all'inizio non sapevo come metterlo Poi ho trovato la zip e l'ho messo facilmente Comunque molto carino E con queste balze, favoloso Poi ci stanno questi shorts Sembra una gonna ma invece sono shorts Ed è fantastica Troppo bello che qua si annoda davanti E' molto bello con queste strisce bianco e nere Anche qua dietro c'è lo zip Ed è molto bello, mi piace troppo questo completo Allora poi c'è questa felpa troppo bella Con le spalline aperte Molto particolare Poi con questi colori è proprio insuperabile Tipo rosa, giallo, azzurro Che è un po' di bianco, favolosa Poi mi piace molto il fatto che sia un po' corta E anche molto estiva Veramente troppo bella Con pure il cappuccio E' fantastica Allora poi c'è questo top Troppo bello, molto particolare Che ha queste righe bianche e nere Anche un po' oblique Ed è un po' stile anni 60 E questo top L'ho usato per fare pure un servizio Un servizio fotografico su Instagram Dove facevo Barbie con questo top stile anni 60 E se non mi seguite già su Instagram Seguitemi adesso se volete Grazie Comunque questo top mi piace tantissimo Troppo bello E poi ci stanno questi occhiali favolosi Che li stavo già cercando da tantissimo tempo Solo che non li trovavo Ma adesso finalmente li ho trovati da Zaffoli Sono favolosi Vi provo in questo momento Eccoli qua Sono troppo belli Con questa forma a cuore Mamma mia Fantastici Poi ragazzi c'è questo vestito favoloso Troppo bello E' fatto pure a mano Un uncinetto E' veramente troppo bello Questo sarà perfetto l'estate Non vedo l'ora di indossarlo l'estate Poi con questo fiocchetto dietro Questo bellissimo fiocco Tutto bianco bianco Bellissimo Davvero troppo bello Pure fatto a mano Proprio incredibilmente fantastico Mi piace troppo Allora poi C'è quest'altro top Veramente bello Bello Rossissimo Carinissimo Con questi fili sotto Che puoi anche stringere E quindi il top si fa Diciamo più Si può stringere Quindi diventa un po' più corto Se lo stringi Ed è veramente troppo bello Mi piace tanto anche il colore rosso così E si Basta stringerlo E si alza un po' E' troppo bello Poi c'è questa felpa Vabbè la tan completo Anche la parte di sotto c'è E comunque Questa felpa è bellissima Con questi lacci E' troppo bella Poi ha Vabbè ovviamente Cappuccio Questa è meno leggera Però comunque è corta Ed è veramente troppo bella Bianca bianca Fantastica Poi ci sta la gonna Che questa volta non sono shorts Ma una gonna E invece ci stanno i lacci Ai lati Ed è veramente troppo bella Fantastica Poi ci sta questo penultimo completo Solo che vi volevo far vedere prima La maglietta che sto indossando Che è sempre di Zappo Ed è veramente troppo bella Con questo cuore bello rosso Con lo sfondo bianco Proprio semplicissimo Ma proprio fantastico E comunque Si sente proprio che Il materiale è proprio Perfetto Ottimo E mi piace troppo Troppo bello Con questo bel cuore Semplice Molto bello Ed è magnifico Allora Più che altro Invece di essere un completo È una tuta E comunque Questo è il top Il top ha il cappuccio E' molto bello Con due strisce bianche Sulle braccia Cioè Sulle maniche Ed è veramente pavoloso Molto bello Mentre invece I pantaloni Sempre hanno La striscia lunga Sui lati Tutti e due Lati L'altro e sinistro E' molto bello Con Sempre Bianco e nero Bellissimo E ragazzi Queste sono tutte le cose Che ho scelto Spero che vi siano piaciute E comunque Ricordatevi che Qui sotto Nell'info box Vi lascerò Il link Di tutto quello che ho scelto E se vi è piaciuto Questo video Mettete tantissimi like E se volete Iscrivetevi a questo canale Ci vediamo Nel prossimo video Alla prossima ragazzi Alla prossima